Prima un'interpellanza, poi una mozione con quest'ultima passata all'unanimità all'interno del Consiglio Comunale San Giovannese relativamente alle problematiche della ricezione della posta in alcuni quartieri cittadini. Approvato il documento che concerne un maggior controllo da parte dell'amministrazione comunale verso le poste italiane e gli altri distributori privati, il tutto nato da una segnalazione di cresce San Giovanni. I cittadini non ricevono la posta né pacchi o perlomeno ricevono in ritardo e questo il primo cittadino lo deve sapere prima di noi e non deve essere informato da noi. Posta che sia ordinaria oppure legata a privati, a bollettini affidati da società privati non cambia il senso. I cittadini di San Giovanni, le imprese e le società nel territorio san Giovannese hanno dei grossi problemi sia per ricevere fatture, per ricevere pacchi, per rispondere alle varie corrispondenze anche commerciali. Ovviamente adesso sarà intensificato il controllo della gestione delle lettere da consegnare, molte delle quali peraltro purtroppo ormai in abbonamento postale non riportano neppure il timbro del giorno d'invio.